Nel precedente filmato abbiamo sviluppato l'esempio di georeferenziazione catastale mostrato in questa schermata. Abbiamo visto come questa tecnica prevede di selezionare sulla mappa rastre una serie di crocicchi per i quali vengono poi calcolate le coordinate georeferenziate. Abbiamo anche visto che tali coordinate differiscono da quelle nominali di mappa per effetto della deformazione che la mappa ha subito nel tempo. In pratica questi valori costituiscono le effettive coordinate che i crocicchi presentano nello stato attuale in cui si trova la mappa, vale a dire con la deformazione che la stessa ha subito. In questo filmato vedremo come ottenere su file la mappa così georeferenziata. Mediante le opzioni del riquadro esporta il programma permette infatti di esportare il raster georeferenziato nei più diffusi formati previsti per questo tipo di applicazioni. Un primo formato è il geotiff. Il geotiff è un file che viene generato quando la mappa raster di partenza è un file tiff. In questo caso infatti il file tiff viene trasformato in geotiff nel senso che pur rimanendo lo stesso file con estensione .tiff nel file vengono trascritte le informazioni sulla georeferenziazione. Questo fa sì che importando ad esempio il file geotiff nel CAD la mappa assumerà le sue reali coordinate cartografiche ed avrà unità di misura in metri anziché in pixel. Un altro formato esportato dal programma è il file tfw. Il file tfw viene generato quando il raster della mappa originaria non è un file tiff ma è uno degli altri formati grafici standard come ad esempio il file jpeg, il file png oppure il file bmp. Il tfw è un file di testo contenente le informazioni sulla georeferenziazione. A questo file è necessario assegnare lo stesso nome del file raster della mappa e salvarlo nella stessa cartella. in questo modo infatti si ottiene lo stesso effetto già detto per il geotiff. Vale a dire che aprendo sul CAD una mappa raster accompagnata dal corrispondente file tfw il CAD la posizionerà alle sue reali coordinate cartografiche e presenterà unità di misura in metri. Ma il formato più utile nel quale georem esporta la mappa georeferenziata è il dxf proprio perché questo tipo di file è direttamente gestibile con qualsiasi software CAD. Per ottenere il dxf della mappa georeferenziata basta quindi cliccare questo bottone. Il programma crea in automatico il file e permette di aprirlo direttamente da georem lanciando il CAD abbinato ai file dxf ed installato nel proprio computer, nel nostro caso zvcad. Una volta ottenuta la mappa sul CAD possiamo verificare gli effetti della georeferenziazione ripetendo le stesse operazioni che avevamo visto nel primo filmato e che ci avevano reso evidenti i motivi per i quali una mappa raster non georeferenziata risultava praticamente inutilizzabile. Se andiamo infatti a verificare ora le coordinate del vertice in basso a sinistra del raster possiamo notare che i valori presentati in questo caso non sono più 00 come nel caso della mappa non georeferenziata ma corrispondono esattamente alle coordinate cartografiche della mappa stessa. Allo stesso modo se andiamo ora ad interrogare la distanza tra due parametri di mappa consecutivi utilizzando il comando del CAD potremo notare che questo valore corrisponde effettivamente ai metri che intercorrono tra i due parametri però notiamo che la distanza che ci viene fornita non è esattamente 200 metri ma ha un valore di 22 centimetri dopo la virgola. Questa differenza è dovuta al fatto che la georeferenziazione catastale effettua una semplice rototraslazione ed una scalatura della mappa ma non ne elimina la deformazione. In altre parole la mappa era deformata prima della georeferenziazione ed è rimasta deformata anche dopo. Questo significa che se noi andiamo a misurare la distanza della stessa linea di mappa di cui al primo filmato otteniamo in questo caso un valore che è in metri ma che tuttavia non possiamo ritenere attendibile per il fatto che come detto questa tecnica non ha rimosso la deformazione della mappa. Per questo motivo nei lavori catastali in cui viene richiesta una buona precisione la georeferenziazione catastale non può essere utilizzata. Nei successivi filmati vedremo quindi le altre tecniche messe a disposizione dal software GeoRAM e che oltre a georeferenziare applicano anche una vera e propria rettifica della mappa eliminandone la deformazione.